E' stato presentato a Roma nella sede nazionale di ConfCommercio il nuovo volume della collana Le Bussole dedicato a recensioni e pronotazioni online al ristorante, realizzato da FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Associazione della Ristorazione, dell'Intrattenimento e del Turismo che rappresenta oltre 360.000 imprese per un milione di addetti e un valore aggiunto di oltre 38 miliardi di euro in collaborazione con The Fork, piattaforma di pronotazione online. La giornata di discussione è stata un'occasione per fare il punto sui cambiamenti che le nuove tecnologie stanno portando nel mondo della ristorazione e sulle azioni che il sistema associativo può sviluppare per accompagnare le imprese del settore nella comprensione delle novità digitali, perché individuino le opportunità che questi strumenti possono fornire a supporto delle strategie aziendali. Dopo i saluti del presidente FIPE e vicepresidente ConfCommercio Lino Enrico Stoppani sono intervenuti Elena Egan e Valentina Quattro, rispettivamente Global Industrial Relations Director e portavoce per l'Italia di TripAdvisor, Almi Rambescovic, country manager di The Fork, Aldo Maria Cusano, vicepresidente vicario FIPE, Lorenzo Farina di Walkin e Fabio Fulvio, responsabile sviluppo di ConfCommercio. L'iniziativa che FIPE fa insieme a ConfCommercio sulla presentazione di questa nuova collana delle bussole riferita alle recensioni online è pertinente per il tema della giornata che è l'innovazione. L'innovazione è anche nel nostro settore un elemento essenziale per crescere le nostre imprese, è un tema molto delicato perché collegato al tema delle recensioni e delle prenotazioni online c'è il tema delle recensioni che ci vede molto spesso in contrasto con TripAdvisor, aver portato oggi TripAdvisor che molto spesso è visto come un diavolo dai nostri operatori per il grosso problema delle recensioni fasulle o false, evidentemente dimostra la volontà di arginare un problema, di trovare delle soluzioni potabili per tutti e soprattutto offrire uno strumento che oltre alle recensioni offre anche ai nostri operatori la possibilità di fare marketing, di migliorare la propria offerta, di monitorare la gestione e di fare anche attività di marketing in confronto dei clienti. Per cui è uno strumento con più declinazioni, tutte utili, che è giusto offrire all'attenzione degli associati. L'appuntamento romano inaugura un roadshow che si terrà nei prossimi mesi in altre nove città italiane per informare le imprese su cosa sta avvenendo nel settore della ristorazione in termini di innovazione tecnologica e informarle sull'utilizzo degli strumenti digitali perché creino valore per il proprio business.